benvenuti in Logistics and Analytics Italia siamo al sesto video di questa serie sugli strumenti Power BI in cui ci si era presentato un giallo noi vogliamo sapere nella nostra azienda in quale regione fatturavamo di più non lo riuscivamo a sapere perché i nostri sorgenti data erano dei file di testo esterni che addirittura non avevano neanche la dicitura della regione avevano soltanto la dicitura del comune abbiamo preso questi strumenti esterni li abbiamo usati come sorgenti per queste tabelle Excel abbiamo creato questi oggetti Excel mi raccomando ogni volta che utilizzate questi strumenti così dinamici sempre verificare il formato colonna per colonna formato numero formato data formato testo formato valuta formato numero formato testo per perché verificare colonna per colonna perché quando queste entità tabulari inizieranno ad entrare un'architettura logico relazionale ebbene sarà proprio il tipo del dato a consentire a questi strumenti di ripercorrere a ritrosso queste relazioni quindi dal testo siamo passati alle tabelle poi queste entità tabulari noi le abbiamo usate come sorgenti dati esterni per un'architettura fatta con Power Pivot allora andiamo con Power Pivot e ci sinceriamo finestra Pivot click e vediamo che abbiamo presente la nostra struttura abbiamo semplicemente rinominato le tabelle per maggior chiarezza vediamo nella vista diagramma abbiamo creato le relazioni come sempre ci troviamo in una situazione simile a quella di access vedete la chiave primaria la chiave primaria comune presente nella tabella comuni si trova anche nella tabella transazioni la chiave primaria nome prodotto presente nella tabella prodotto si trova anche nella tabella transazioni seguendo questa relazione non riusciremo a rispondere a questo giallo in quale regione la nostra azienda fattura di più fino adesso abbiamo visto che né in Excel è proprio esplicitato il fatturato basterebbe fare quantità dei prodotti venduti per prezzo ma neanche in Power PV abbiamo esplicitato il nostro fatturato lo faremo adesso ma prima di farlo sempre controllare il formato dei dati clicchiamo lì di transazione formato generale a noi non ci piace numero intero vedete che viene rietichettato come numero intero la data della transazione non ci piace perché ci ha messo un orario inesistente quindi mettiamo e cambiamo il formato della data 2 marzo 2015 il formato del nome prodotto è il formato testo ci va bene il formato del prezzo prodotto è valuta ci va bene il formato della quantità prodotto è un numero intero non decimale ci va bene perché non vendo un pezzo del prodotto il formato comune è nome testo adesso ci manca di risolvere il nostro giallo quanto fatturiamo e in quale regione fatturiamo di più lo scopriremo inserendo un calcolo di tipo relazionale che cosa vuol dire che utilizzeremo questo nuovo linguaggio di ax che sembra avere un po dei comandi in sequel un po delle funzioni in excel un po dei comandi nuovi per comprendere quale il nostro fatturato noi scriveremo fatturato due punti guardate qui nella nella casella funzione uguale cioè etichetteremo questo nuovo campo che non è un campo né una riga né una colonna è un campo di intersezione perché con questa entità fatturato noi riusciremo a chiedere finalmente a questo strumento estrapolami la regione che guadagna di più c'è questo nuova nuove funzione sam ex su mix sembra difficile questa stringa di testo che staremo per scrivere questo comando ma non lo è ha fatto sempre seguire in excel in tutti gli strumenti office il quick tip il suggerimento table ti chiede ma io devo fare una somma di intersezione ecco perché si chiama x di quale tabella ma ovviamente della tabella transizione iniziamo a scrivere tbl vedete che lui mi presenta tutti i nostri oggetti come delle identità già precostituite perché l'abbiamo depositato in memoria quindi facciamo tabella transizione tab punto e virgola quale espressione devo fare bene io devo fare il prezzo del prodotto per la quantità del prodotto d'accordo semplicissimo a questo punto noi che cosa facciamo dentro la transazione possiamo fare tbl possiamo fare di aperta parentesi tbl guardate tbl transazioni prezzo prodotto sto andando in giù con la freccina e poi tab per semplicissimo tbl e scegliamo transazioni tabella transazioni campo quantità prodotto in tab chiusa parentesi invio questa è la nostra espressione ho lasciato una parentesi e vedete che il fatturato è 5.300 euro io che cosa ho fatto relazionalmente adesso ho introdotto praticamente un'entità unica che mi individua il fatturato di tutta la mia azienda all'interno di tutto il mio territorio posso a questo punto per esempio assegnare il tipo euro e vedete che mi diventa 5.300 euro perché questa entità informatica è importante perché mentre prima di questi strumenti noi con una nidificazione di vertical look up e di funzioni tentavamo di rispondere a questa domanda ma excel faceva su e giù lungo database di centinaia di migliaia di colonne certe volte sembrava rimanere congelato perché excel non ha la clessidrina perché metteva tutte queste operazioni in ram in realtà questa entità informatica è depositata in una porzione diversa del documento e viene calcolata soltanto alla bisogna questa è la fondamentale differenza fra usare power bi business intelligent con power pv power query in excel semplicemente perché se noi abbiamo un file excel non normalizzato di vecchia natura che ad esempio dura 30 lungo 30 megabyte occupa 30 megabyte all'interno dell'hard disk se noi facciamo tutta una normalizzazione inseriamo questa architettura relazionale bene quel file pur avendo delle funzioni simili addirittura superiori verrà compattato occuperà tipo 3 mega all'interno del computer e riuscirà a risponderci relazionalmente con delle architetture logiche a delle domande che con excel solamente non riuscivamo a fare quindi abbiamo creato questa espressione che sembra difficile ma non lo è fammi una somma di intersezione all'interno della transazione proprio tra il prezzo del prodotto e la quantità del prodotto è un oggetto unico che verrà scorporato per regioni per prodotto vediamo come si fa semplicemente tabella pivot ed ecco che lo strumento torna ad excel in un nuovo foglio di lavoro e vediamo noi che cosa vogliamo finalmente riusciamo a rispondere al nostro giallo la regione la vogliamo nelle etichette della riga e la trasciniamo come etichetta della riga e il nostro nuovo campo calcolato guardate che carina ci scrive ci mette una calcolatrice per far capire che questo campo non esiste nei sorgenti dati né nei file di testo separati da virgola né tantomeno nel file excel è stato calcolato con power pv il campo fatturato all'interno dei valori finalmente vedete stiamo rispondendo ad una domanda a cui prima non eravamo riusciti a rispondere non avevamo un'architettura di data model che ci consentisse di risolvere questo via questa domanda vedete la regione sicilia è quella in cui la mia azienda fattura di più si vede ad occhio potremmo addirittura aprire dei nuovi negozi oppure potremmo decidere di aprire dove fatturo meno finalmente abbiamo risposto in maniera esplicita ad un quesito che prima era implicito il totale 5.300 euro e in sicilia fatturo 2.450 euro noi dobbiamo capire che questo fatturato è stato fatto con una nuova modalità di calcolo sumx perché pur essendo un'entità univoca viene scorporata relazionalmente per tutte le altre regioni ma nella stessa maniera se io ho fatto ad esempio una tabella pv la posso andare con il tasto finestra pv all'interno del tab power pv nuovamente nella mia struttura relazionale tenere sempre selezionato questo oggetto questa nuova entità calcolata l'espressione sembra più complessa di quello che è e cliccare la freccetta invece di tabella pv cliccare grafico pv vediamo se adesso così riusciamo a rispondere anche graficamente alla nostra domanda nuovo foglio di lavoro ok left click la stessa cosa il nostro giallo era sapere in quale regione fatturavamo di più e poi prendere il campo fatturato e mettere il campo all'inizio vedete anche in questa in questo grafico pv che è la rappresentazione grafica di una tabella pv il quesito ha avuto una risposta che è veramente chiara la regione sicilia è la regione in cui si fattura di più ma se noi torniamo ad esempio alla nostra tabella pv in cui questa entità era espressa testualmente noi guardate che cosa possiamo fare noi possiamo prendere per esempio possiamo prendere all'interno della tabella pv il nome del prodotto e cliccarlo all'interno come filtro cioè noi possiamo aggiungere un livello ancora più tridimensionale vedete non solo io da questa tabella pv capisco in quale regione ma io posso selezionare per esempio divano in inglese questi filtri vengono chiamati slicers cioè io vedo che il divano l'ho venduto solo in sicilia in toscana lampada la lampada l'ho venduta solo in sardegna lo slittino soltanto in sardegna in toscana il tavolo soltanto in ubera vedete che io sto inserendo veramente una serie di strumenti che mi consentano il data analysis questo è veramente il livello più strategico di questi strumenti partire da una serie di sorgenti dati che non mi fa fare un data analysis non mi fa capire qual è l'andamento del mio business ed arrivare a una serie di strumenti totalmente automatici come una tabella pv o una un grafico pv in cui io posso fare data analysis al volo io non ho bisogno di chiamare nessun esperto perché siccome vedete cucina e sedia sono in grigetto vuol dire che io non ho venduto né una cucina né una sedia cioè i miei prodotti cucina e sedia vanno malissimo per qualche motivo l'ho sbagliati mentre il mio prodotto divano l'ho venduto lampada l'ho venduto il slittino l'ho venduto tavolo l'ho venduto dunque noi siamo giunti finalmente alla fine di questa serie di video se riusciremo produrremo la l'ultima diciamo rappresentazione cartografica dei nostri dati con power map grazie di aver seguito questo video al prossimo video grazie grazie grazie